Milio e Virgilio, Fratelli Gemelli del Segno dei Gemelli, tra 21 maggio e 20 giugno. Se avete smesso di fare tutto insieme, le stelle vi hanno aiutato e siete dipesi meno l'uno dall'altro. Il lavoro vi avete offerto nuove opportunità solo se sapevate lavorare con due mani invece che con quattro, come fate di solito. Avevate molte soddisfazioni economici e quindi potevate finalmente fare un bel viaggio. Ma Emilio è andato al Polo Nord e Virgilio in Sudafrica. Nella vita privata, attenzione a non innamorarvi della stessa donna.